Quando sono partita di andare in alta quota nel 2009, ormai dieci anni fa, ho visto una situazione ancora un po' diversa di adesso e ovviamente la prima volta sei lì in un campo base grande, ero al campo base dell'Everest Lodz, era lì tantissima gente e c'era sempre qualcosa che si poteva fare, bere il caffè là e chiacchierare con questi e con quegli altri e si conosceva un po' il mondo. Però man mano che sono avanti ho capito che io cerco sempre più la tranquillità e questa pace, questa solitudine al campo base per essere con me stessa da sola, a pensare alla mia vita, al mio futuro, ai miei valori e a diventare la persona che voglio diventare. Poi nel 2017 ho fatto, ho tentato l'ultimo 8000 che ho provato e lì sono rimasta molto male perché non ho visto i valori che per me sono i valori della montagna e mi faceva solo triste, mi ha rubato tutta l'energia anche per la montagna, quindi già tutto il casino al campo base mi ha tolto la felicità, la serenità e anche la forza per affrontare poi di più. Il meteo non era buono e così praticamente già tutto partiva anche negativo, anche già prima di partire ho fatto un volo sulla... 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 qua? Come si dice? Shoulder. Sulla cavolo. Non mi arriva? Ok. E comunque non ho visto i valori che per me sarebbero importanti di vedere in montagna quella amicizia, di aiutarsi, di... di stare insieme felici e sereni, di guardare anche sulle altre persone se qualcuno sta male, ci si aiuta e così, ma tutto questo non c'era e quindi ho detto no, adesso basta per me in questo circo. Ovviamente sono una persona che è molto tollerante, c'è spazio per ognuno in montagna, sono sicura e ci sono così tante montagne sia di... di tanto turismo come ormai le 8000 o anche di montagne che nessuno conosce e nessuno ne vuole sapere neanche e così c'è spazio per ogni persona di scegliersi l'ambiente che lui vuole e sicuramente sarebbe bello di scalare l'Everest senza ossigeno, però se poi devo mettermi nella fila di 400 persone dico no, grazie. E siccome io non posso pretendere da tutti gli altri alpinisti o turisti di stare a casa che io posso scalare l'Everest da sola con l'ossigeno quindi devo trovare altre strategie come per esempio andare d'inverno o scegliermi altre montagne e così ovviamente l'alpinismo diventerà forse una fascia molto più ampia perché poi sono quelli che vanno su, saltano giù col wingsuit o col parapendio ci sono tantissimi sport che si collegano all'alpinismo poi ci sono i matti che portano la bici in cima all'Everest o che ne so io quindi sono tante diversità, ognuno vuole fare qualcosa di speciale e sì, poi non so cosa è giusto e cosa non è giusto io non sono la persona che può decidere cosa si deve fare e così la miglior cosa è che ognuno sceglie con i suoi valori lo stile che lui preferisce, che gli piace però lasciando spazio anche alle altre persone con le loro diversità e quindi non so cosa si deve fare e così, anche se non so cosa si deve fare e quindi non so cosa limita e quindi non so cosa si deve fare e quindi non so cosa si deve fare